21 marzo 2021. Sono in casa perché fa freddo e ho unito questa poesia di Dylan Thomas con l'inizio della primavera che quest'anno non sento. La poesia si intitola Non essendo che uomini. Non essendo che uomini, camminavamo tra gli alberi, spauriti, pronunciando sillabe sommesse, per timore di svegliare le cornacchie, per timore di entrare, senza un rumore in un mondo di ali e distridi. Se fossimo bambini potremmo arrampicarci, sorprendere nel sonno le cornacchie senza spezzare un rametto e dopo l'agile ascesa cacciare la testa al di sopra dei rami per ammirare stupidi le immancabili stelle. Dalla confusione come al solito e dallo stupore che l'uomo conosce, dal caos verrebbe la beatitudine. Questa dunque è la leggiadria, dicevamo. Bambini che osservano con stupore le stelle. È lo scopo e la conclusione. Non essendo che uomini, camminavamo tra gli alberi.